www.arizopoli.it Accesso al credito 2024, Camera di Commercio di Brescia, ma date un'occhiata anche a vostra Camera di Commercio, nella vostra regione, perché ci sarà un bando simile. Ci sono fondi per un contributo a fondo perduto per l'abattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per liquidità e sui finanziamenti per investimenti, l'abattimento del tasso fino al 7%. Il contributo massimo è di 10.000 euro. Rivolto alle micro e piccole imprese della provincia di Brescia, in questo settore, stiamole guardando, sono escluse quelle che hanno avuto accesso a Fai Credito 2023. Quindi porto poi il minimo di finanziamento e il massimo alle tipologie. Sono previste premialità per il rating di legalità, a seconda della stellina c'è un contributo maggiore, e anche per chi ha ottenuto la certificazione di parità di genere, un piccolo premialità. Direi interessante, dobbiamo attivarci, i moduli saranno a disposizione dal 30 ottobre 2024 sul sito della Camera di Commercio. Secondo me sarà un click day perché è previsto l'inserimento dal 24 al 27 febbraio 2025 per i finanziamenti 2024, dalle ore 9 alle ore 16. Sono 1 milione e 4, facciamo due conti, la matematica, quindi le pratiche vanno inserite velocemente, quindi procurarsi la modulistica al 30 ottobre 2024 sul sito e lunedì 24 febbraio click day. Interessante per tutte le medie e piccole imprese che hanno ottenuto finanziamenti nel corso del 2024, un abbattimento fino al massimo di 10.000 euro. Interessante per chi ha ottenuto finanziamenti, come ripeto, sulla liquidità e sugli investimenti fatti dalle imprese. Vi riporto qui il pdf del bando della Camera di Commercio di Brescia. Ripeto, date un'occhiata anche alla vostra Camera di Commercio perché ci sarà un bando simile. Una buona educazione finanziaria a tutti, alla prossima!